Dunque, signori, io consiglierei un buon bianco, abbiamo un bollina, abbiamo anche un bozzicorso, una falanghino o un fedora. Poi, successivamente, magari... E chiedo scusi, il gabinetto, dall'altra parte. Potrei consigliarvi anche un rosso, chiedo scusi, il gabinetto, dall'altra parte. Un buon rosso, che può essere un donna d'isa, un... Chiedo scusi, il gabinetto, dall'altra parte. Oppure, un maglisugeno, il gabinetto. Marescià, di là, dall'altra parte. Da quale parte? Vabbè, marescià, di là, dall'altra parte. Che la scusa fa?